Tengo con particolare aspetta, ringraziare Giannino Laimini, locale storico urbano nato nel 1981 come lì, che mettendo a disposizione il locale ha reso possibile la sfilata, idea nata da Giannino Spesso e Giuseppe Ferrari Parmichie, che 26 anni di attività dal 2005 a Procchio. Non hanno esitato a contattarmi per l'organizzazione dell'evento. Ringrazio Tibidavo per aver creduto per il mio blog di moda studiati di Fusciwood fin dal primo momento. Ringrazio infine Acqua dell'Elba, che sfilerà con la moda mare, Giuseppe Ferrari Parmichie, per le splendide acconciature, e Chiara di Tibidavo Store, che ha curato il make-up delle modelle e tutte le modelle che vedrete sfilare in questa sera. Il percorso di Tibidavo è inizio nel 1999. La prima boutique apre a Marciano Marina da un'idea di Paola, successivamente aprono le boutique di Marina di Campo e Porto Ferrari. Visto il riscontro positivo, apre una nuova boutique a Capoliveri e una boutique interamente dedicata agli accessori, scarpe, bijoux, volte, a Marciano Marina. A maggio di quest'anno è stato inaugurato il Tibidavo Store di Marina di Campo, mentre il vecchio negozio si è trasformato nel primo outlet di Tibidavo dell'Elba. Ora vi lascio alla preview con Winter, uomo-donna, Pinco, Patrizia Pepe, Agro e ora Tibidavo! Grazie a tutti! 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 ! 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